Scalate e vittorie, fatiche e trionfi, sogni cadute e rinascite, nostalgia di casa e maglie non solo rosa intrise di sudore. Una splendida pedalata dei ricordi, quella che Beppe Saronni e Silvano Contini hanno portato al Panatlon Varese, accolti dal presidente Felice Paronelli e interpellati dal giornalista Paolo Costa, autore del libro Sorrisi e Fantasia, insieme all'esperto di ciclismo Sergio Giannoli. Tanti aneddoti e qualche campione più volte evocato, come Francesco Moser e Felice Gimondi, per una serata affascinante preludio del weekend di Cittilio, che comprende tra l'altro il terzo raduno in memoria di Vittorio Adorni, previsto il 18 giugno.